Allora, il messaggio che deve passare in questo momento è che noi vorremmo che veramente da questo fatto che è successo, che chiaramente non va bene e che è un brutto segnale in Melignano, ma Melignano non è questo. Il problema è un altro. Il problema è che l'immigrazione non è un problema. Qualcuno l'ha fatta diventare un problema. Oggi c'è un decreto sicurezza che mette in difficoltà tantissime persone. Questo noi l'abbiamo dichiarato anche ieri sera in Consiglio Comunale. È importante continuare a fare cultura, a chiamare le cose con il loro nome, a capire cosa è successo in Italia prima del 1945 e che cosa sta succedendo oggi. Secondo lei c'è quindi un parallelismo tra le leggi razziali e quello che è il DL Sicurezza? Allora, non faccio un parallelismo diretto rispetto al decreto sicurezza, però ci sono dei segnali, delle cose che non vanno bene. Perché togliere il permesso umanitario manda delle persone, permette, sì, in mezzo alla strada e non aiuta sicuramente. Si aspetta che in un qualche modo ci sia una condanna altrettanto nazionale, ovvero dal ministro Salvini di questa cosa? E ci sia una condanna rispetto a quanto è successo? Sì, secondo me è giusto che ci sia. Perché è vero che è un atto piccolo, è vero che ce ne sono stati anche peggiori, è vero che le cose nascono anche dal piccolo. Solo che probabilmente il clima di oggi non è il clima di tre anni fa. È un clima diverso, è un clima in cui a volte addirittura la caccia allo straniero. Ma Baccaris è al corrente della situazione che lei ci ha descritto nel nostro paese oppure lo vive come un atto personale nei suoi confronti? No, è al corrente della situazione nel nostro paese. Ho seguito cose ben peggiori, cioè da chi è andato a sparare, da chi sputa in faccia, da chi manda via. Cosa le ha detto quando ha visto questa scritta? La seconda in una settimana? Inoccupati, caspita, non pensavamo. Pensavamo che la cosa fosse chiusa, che fosse una persona che non ragiona, che è così, però invece è ripetita Juve. Serve una manifestazione antirazzista qui a Meleniano? Allora, so che ci stanno pensando rispetto a questa cosa. La prima cosa, invito tutti il 2 marzo a Milano, andremo anche noi, siamo sempre andati anche fino adesso, alle manifestazioni che ci sono state a Milano. Le sue parole capisco che comunque non c'è una gran differenza che sia stato un ragazzino di 15 anni o che sia stata una persona, cioè lei cosa pensa che sia successo e che cosa? Io non lo so, questo non lo sappiamo, chi le sia stato. Comunque la persona che ignora tante cose, che avrebbe bisogno di capire che cosa è successo nella storia e che è un po' di umanità. Siete un esempio positivo, no? L'abbiamo fatto una cosa piccola, semplice, non abbiamo fatto niente di speciale, però acquisto una famiglia qua che gli permette di fare delle cose qua in Italia e con la quale sta bene, sta facendo la sua scuola. Cosa che ha pensato quando lei ha visto questa scritta? Mi ha fatto arrabbiare da una parte, mi ha fatto anche riflettere che bisogna continuare, io insegno a fare un'opera educativa perché la svastica, insomma, è un chiaro segno, non è? Un po' di clima c'è a livello razzista, sì, sicuramente c'è, bisogna però girare la cosa, non so come dire, cercare di creare un clima positivo.